Il 25 novembre è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, un fenomeno purtroppo molto diffuso che trova le sue radici in una cultura distorta e sbagliata. Credo che per contrastare il fenomeno possano essere utili dell'azione di prevenzione. Penso alla diffusione di un messaggio tra le donne affinché queste guardino con attenzione l'uomo che sta loro di fronte, ne osservino attentamente gli atteggiamenti e non confondono mai un gesto di violenza che possa essere fisico o verbale con un gesto d'amore.